Commissario, vado a sudo. Due osservazioni. Nel piano vi assenza di locazione geografica è settoriale predefinita. Sì, perché ad oggi vi è un'alta concentrazione degli investimenti in pochi Paesi, tra cui quelli meno colpiti dalla crisi. E quando investite in energie rinnovabili, lo fate facendo favorendo grandi aziende, e non l'autoproduzione e l'autosufficienza. Seconda osservazione. Mancanza di chiarezza e trasparenza sulle modalità di funzionamento delle linee di credito e dei fondi. Concessi quindi questi a banchi e a grandi gruppi finanziari. Ricordo che vi sono diversi private equity funds. Commissario, lei afferma che da 12,8 miliardi si attendono 100 miliardi. Ci si attende? Siate trasparenti e precisi. Quanto denaro è arrivato? A chi? Dove? A che condizioni? State finanziando l'economia reale o creando una nuova bolla finanziaria? Che fine ha fatto l'effetto leva? Uno per quindici. Ma 12,8 miliardi per quindici non fa 100 miliardi.